L'avvenimento che è sulla bocca di tutti in questi giorni è solo uno, l'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Ovviamente se ne è parlato dappertutto, tra le giornali, televisioni, talk show e naturalmente all'appello non possono mancare anche i social. In particolare a poche ore dopo l'arresto mi sono imbattuto in questo reel. Che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa a lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso e così arrestando lui magari esce qualcuno che è all'ergastolo stativo senza che ci sia clamore. Cioè lei mi sta dicendo che Matteo Messina Denaro non sta bene. Quindi se lei lo sa è perché continua ad avere rapporti in questo mondo, perché comunque ti presume. All'interno di questo reel si fa riferimento ad un'intervista andata in onda sulla 7 a Piazza Pulita di Giletti svolta insieme a Salvatore Baiardo, che è un collaboratore di giustizia ed è stato il prestanome che ha coperto la latitanza dei fratelli Graviano. Ma quindi come stanno davvero le cose? C'è davvero in corso una trattativa a stato mafia? Questo arresto è stato veramente pilotato? Ho provato a capirlo e oggi voglio discuterne insieme a voi. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Victor, sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico. E oltre a parlare di astrofisica, di ingegneria aerospaziale e tutto quello che riguarda lo spazio, come sapete, su questo canale ogni tanto parliamo anche di cospirazioni e complotti. Ho voluto fare questo video perché, come dicevo all'inizio, mi sono imbattuto in un sacco di video, un sacco di post che hanno messo in dubbio la veridicità dell'arresto nei confronti di Matteo Messina Denaro. E quindi mi sono incuriosito. Ovviamente prima di cominciare, mi raccomando, se non siete iscritti al canale, non dimenticate di iscrivervi e di attivare anche la campanella delle notifiche per non perdervi le pubblicazioni future. Detto questo, ripartiamo dal reel che abbiamo visto all'inizio. Partiamo dalla questione trattativa Stato-Mafia. Cosa sappiamo? Cosa è successo? Ovviamente premetto che io non sono un giurista, quindi non mi addentrerò nei dettagli tecnici e specifici, anche perché sarebbe un discorso ovviamente enorme, però cercheremo di capire i fatti nella maniera migliore e anche più sintetica possibile. Sappiamo infatti che negli anni 90 ci fu un processo, ci fu una questione attorno a delle trattative fra lo Stato e la mafia. La sentenza dichiara che si trattò di una iniziativa improvvida, intraprese in totale spregio ai doveri inerenti l'ufficio e compiti istituzionali. Quindi in sostanza si tratta di una iniziativa di pochi singoli appartenenti alle forze dell'ordine che, secondo la sentenza, non avrebbero quindi ricevuto degli ordini dall'alto. Quindi non si tratta di un'organizzazione fra la politica, i governi e le forze dell'ordine, ma si tratta in qualche modo di una piccola organizzazione e iniziativa di singoli che avrebbe poi dato il via a tutta la diatriba. Ecco, dopo l'arresto del numero uno di Cosa Nostra parte ovviamente una sequela di dubbi, una sequela di domande che le persone si pongono, chiedendosi anche legittimamente se ci sia un'altra trattativa di questo tipo attualmente in corso fra lo Stato e la mafia. E quello che viene portato all'attenzione del pubblico è, in quasi tutte le occasioni, questa intervista che abbiamo già visto nel reel di partenza, dove il collaboratore di giustizia Baiardo insinua che ci potrebbe essere questa trattativa, ci potrebbe essere un accordo attraverso il quale lo Stato avrebbe modificato o aggiustato la legge che riguarda l'ergastolo stativo in cambio di un arresto clamoroso nei confronti del boss. Che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa a lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso e così arrestando lui magari esce qualcuno che è all'ergastolo stativo senza che ci sia clamore. Cioè lei mi sta dicendo che Matteo Messina Denaro non sta bene. Quindi se lei lo sa è perché continua ad avere rapporti in questo mondo, perché comunque con il Graviano lei ha intrecci con i parenti, immagino non ha rotto i rapporti con il sistema intorno al Graviano. Lei sta dicendo una cosa forte, mi sta dicendo che siccome non sta bene, questo potrebbe essere un colpo molto forte per il nuovo governo. Appena arriva si insedia. E' un fiore all'occhiello. Il governo c'è Berlusconi, no? Anche. E può essere un, come si dice, un bel regalino. Però questo vuol dire, non mi dica che penso male, cioè qualcuno potrebbe dare delle indicazioni, come forse vennero date per la cattura di Totorina, e far sembrare tutto casuale e in realtà è tutto a una finalità. E' tutto magari programmato già da tempo. Per poi far uscire qualcuno dal carcere. Senza che sia un clamore. Tutto è possibile, Giletti. Bene, vista così questa intervista, anche molto allusiva, dove le cose si dicono ma non si dicono, sembrerebbe farci delle grandi rivelazioni su come stia funzionando in questo momento il mondo mafioso collegato allo Stato. In realtà, se andiamo a scavare, vediamo che le cose non stanno esattamente così. Di fatto, questo video, questa intervista, si basa su due fattori fondamentali. Il primo, che il boss mafioso Matteo Messina Denaro sia effettivamente malato. La seconda, che ci sia una modificazione in corso della legge sull'ergastolo ostativo. Entrambe le cose sono vere, però ci sono delle considerazioni da fare. Sul punto numero uno, quello che è venuto fuori in questi giorni è che gli inquirenti sapevano già da tempo che Matteo Messina Denaro era in cura come malato oncologico. Difatti, l'operazione di cattura è il risultato di diversi mesi di operazione, incrocio di dati, e non è stato qualcosa che è avvenuto dalla sera alla mattina. E poi c'è il punto numero due. Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto la legge in vigore sull'ergastolo ostativo incostituzionale, chiedendo al governo di modificarla, con data ultima per l'approvazione, il novembre del 2022. Se non fosse arrivata una modificazione adeguata entro questa data, l'ergastolo ostativo come provvedimento sarebbe semplicemente crollato. Quindi, a circa metà novembre 2022, il governo presenta una revisione di questa procedura, di questo provvedimento. A questo punto è facilissimo fare l'associazione fra la modificazione dell'ergastolo ostativo e l'arresto, avvenuto un paio di mesi dopo, del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Come se una cosa fosse collegata a quell'altra. Ovviamente di questo, innanzitutto, non ci sono prove. Però è legittimo chiedersi perché ci sia questa coincidenza, come mai le tempistiche siano così ravvicinate. C'è effettivamente un accordo in corso? Potrebbe, se non fosse che, se andiamo a vedere le modificazioni attuate sulla questione dell'ergastolo ostativo, comunque escludono gli ergastoli al 41 bis, che sono quello che, volgarmente, viene chiamato carcere duro. E che, solitamente, è proprio quello che interessa chi fa parte di clan mafiosi. Perché, in quanto carcere duro, limita al minimo i contatti con l'esterno. E qui già vediamo che cade tutto il castello di carte attorno al quale si pensa che ci sia una trattativa in corso fra lo stato e la mafia. semplicemente perché, da questa modificazione dell'ergastolo ostativo, i mafiosi non beneficerebbero. Tornando al nostro video breve, al nostro reel, che è stato quello che mi ha spinto, poi, ad andare un pochino più in profondità sull'argomento, possiamo chiederci, non è che questa intervista sia una informazione cosiddetta cherry piccata? Ovvero, non è che stiamo cadendo nel nostro famoso bias di conferma? Abbiamo già parlato di questi bias cognitivi nella playlist sull'11 settembre, e ovviamente anche quando abbiamo trattato il complotto sullo sbarco sulla luna. Però rivediamoli un attimo in breve. Quando già siamo convinti di qualcosa, come per esempio che ci sia un complotto dietro all'arresto di Matteo Messina Denaro, è molto facile cadere nel bias di conferma, ovvero nel cercare, andare a cercare tutto quello che confermi semplicemente ciò che noi stiamo già pensando, o di cui siamo parzialmente convinti. Allo stesso modo, entra in ballo il suo collega, il cherry picking, ovvero la scelta della ciliegia. Il nome viene dal fatto che in una grande cesta di ciliegie andiamo a togliere quelle un pochino troppo mature o quelle ammaccate, e alla fine avremo una bellissima cesta di ciliegie stupende, che farà sembrare che il nostro ciliegio produca solamente ciliegie di grandissima qualità, senza fare errori. All'interno dei bias cognitivi, questo termine sta a indicare un procedimento dove andiamo a selezionare le prove che più ci piacciono, ignorando le prove che vanno a discapito di quello che stiamo pensando o cercando di dimostrare. Di fatto, se andiamo in giro per il web, l'unica cosa, l'unica prova, che in realtà prova non è a favore del complotto e della trattativa Stato-mafia, è questa intervista di Baiardo. Non abbiamo altri articoli, non abbiamo documenti, non abbiamo nulla che ci dia da pensare che sia effettivamente in corso una trattativa Stato-mafia, se non questa breve intervista, che però, come abbiamo già detto, per quanto sembri incredibile, ci sta raccontando dei fatti che sono già più o meno noti. Quindi perché pensiamo che ci siano i complotti, che ci sia dietro un disegno più grande? Beh, ci sono diverse ragioni, ovviamente. Innanzitutto perché come esseri umani siamo portati a pensare in questa maniera. In secondo luogo, siamo anche come italiani abituati alla narrazione del doppio Stato, quindi a pensare che ci sia uno Stato dietro lo Stato originale che manipola tutto, che ci siano due Stati in Italia, uno è il governo reale, diciamo politico, e l'altro invece è la mafia. In più il nostro cervello è estremamente restio ad accettare il fatto che dietro a cose straordinarie ci siano cose ordinarie. Ovvero dietro a un arresto così sensazionale ci sia semplicemente una operazione dei carabinieri ben riuscita che un boss mafioso ha cerchiato all'interno di un ospedale dove andava per curarsi si consegni in maniera così tranquilla. Ci deve essere per forza sotto qualcosa di losco. E ovviamente ragazzi non fraintendetemi non sto dicendo che il video di questa ragazza che tra l'altro stimo moltissimo sia in mala fede o abbia di per sé qualcosa che non funziona. Lo prendo semplicemente come spunto per parlare di questo argomento raccontandovi cosa mi ha portato poi ad approfondire. Però è un perfetto esempio di come anche le persone che sono più esperte in particolare questa ragazza Francesca che tra l'altro è anche un'avvocatessa possano ogni tanto cadere all'interno dei bias cognitivi. Andando a cercare ciò che conferma i propri dubbi e presentando le prove che sostengono ciò che già pensano. In questo caso tra l'altro senza neanche presentare una prova reale perché le informazioni che Baiardo dà nell'intervista non sono prove concrete ma sono a loro volta dei modi per insinuare il dubbio ancora più in profondità. E non sto neanche giudicando ovviamente chi cade all'interno di questi bias cognitivi perché ci cado io ci cadiamo tutti siamo programmati per cadere tra virgolette dalle nostre trappole mentali. E in un certo senso è anche un bene perché se non avessimo tutti questi automatismi mentali probabilmente ci saremmo istinti da tempo. Però faccio questo video innanzitutto per cercare di mettere un pochino di ordine e raccontarvi cosa ho scoperto nelle mie brevi ricerche e soprattutto per ricordarvi come faccio sempre in queste tipologie di video che il dubbio è sacro santo e bisogna coltivarlo. Non bisogna mai prendere un'informazione che ci viene proposta come automaticamente vera. Quindi è importante quando ci viene presentata un'informazione cercare di fare un passo indietro rispetto a questi processi mentali cercare di riconoscerli quindi formulare un giudizio finale solo quando abbiamo tutte le prove in mano quando abbiamo tutto quello che c'è da sapere a nostra disposizione solo allora possiamo decidere di formulare un giudizio. Bene ragazzi detto questo il video è finito ovviamente fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate se siete d'accordo con quello che abbiamo detto in questo video oppure se pensate anche voi come tante persone che ci sia qualcosa che non funziona sotto a questo arresto qua è Victor passo e chiudo e noi ci vediamo in un prossimo video ciao